Sono due libri, uno che ho scritto da solo assieme a due giornalisti del Fatto Quotidiano che si intitola Io So e che ricostruisce quello che ho saputo, che ho conosciuto, che ho scoperto assieme ai colleghi della Procura di Palermo, a Di Matteo e agli altri del pool dell'indagine sulla trattativa Stato-Mafia lo sfondo e il contesto in cui sono maturate le stragi palermitane del 92, le stragi mafiose del 93 e quella che io chiamo l'ascellerata trattativa di uno Stato che invece di difendere i suoi servitori e combattere contro la mafia preferiva trattare dietro le quinte e di nascosto una tregua con la mafia L'altro, che si chiama Vent'anni contro, è un libro scritto assieme a Giancarlo Caselli che è stato procuratore capo a Palermo per sette anni quando io ero sostituto e oggi è un ex magistrato anche lui, lui in pensione, io perché mi sono dedicato ad altro e anche alla politica Vent'anni contro le raccontano, fanno un buon bilancio di questi vent'anni appunto da quei giorni delle stragi e della trattativa fino ai processi i processi anche importanti, gli uomini politici, il processo Andreotti, il processo Dell'Utri all'attualità in questi giorni Sulla retro della copertina del suo libro è scritto che una parte del paese non vuole sapere Beh, per questo io nel libro io so, ho voluto dare questo titolo forte perché sapere, conoscere la verità è una condizione di democrazia ma c'è una parte del paese che non vuole sapere, non vuole che gli altri sappiano e che possano sapere, perché c'è una verità imbarazzante, una verità da tenere nascosta appunto la verità di uno stato che la guerra contro la mafia non l'ha mai voluta fare e ha preferito raggiungere accordi dietro le quinte Come commenta invece la notizia di queste ore dell'ex senatore Marcello Dell'Utri che si è reso irreperibile? Beh, potrei dire, in primo luogo me l'aspettavo Dell'Utri è un impenitente impunito che ha sempre cercato l'impunità ed è normale dal suo punto di vista che cerchi di sottrarsi all'esecuzione della sentenza dall'altro lato dico che è una vergogna cioè è una vergogna che lo Stato italiano non sia in grado di assicurare l'esecuzione delle sentenze nei confronti degli uomini più potenti e che quindi si sia fatto sfilare sotto il naso e l'imputato è già in parte già condannato Dell'Utri dopo vent'anni di indagini e processi che rischiano così di essere vanificati nel nulla